Un'installazione video che prova a indagare il tutto, guidando il pubblico in una nuova dimensione della percezione per offrire una visione diversa sull'universo e il tempo, la nostra stessa esistenza. Si tratta di Everything, opera dello studio tour con No Lab, ospitata a Milano da Meet & Digital Culture Center, con il Museo Nazionale di Arte Digitale e in collaborazione col Film Master Events. Nei 12 minuti e 30 del viaggio visivo, gli artisti cercano di ritare il tutto come appare, aprendo lo spazio a nuove possibili interazioni. In Everything, come in tutti i progetti di No Lab, ha detto a Nascar News, Jan Dash Shishman, che insieme a Dennis Kader compone lo studio. Noi creiamo esperienze immersive e la tecnologia ci permette di manipolare le percezioni dei sensi umani per creare un nuovo ambiente per i corpi. Luci, immagini, suoni, movimenti, geografie spaziali e biologiche, immaginario fantascientifico e scientifico si intrecciano in maniera affascinante e la sensazione è quella di essere realmente trasportati altrove. Abbiamo cercato di mettere il pubblico davanti a delle domande, ha aggiunto Shishman, davanti a dei problemi. Noi non diamo risposte, ma qualche idea, qualche suggerimento sul futuro. Una delle più importanti è che non dovremmo avere paura delle ignote e dell'oscuro, perché ci sono molte possibilità e ogni scelta definitiva finisce per escludere tutte le altre, che invece sono opportunità senza limiti. FIOS FIOS Grazie.